Una casa da sogno. Correva il Lille E-991 quando la splendida modella ha vinto il titolo di Miss. Da quella fascia, una scalata verso la vetta del successo perché anche sui social diventa attivissima. Tra le foto rese note al suo pubblico di fan, è impossibile non sbirciare un po' intorno e scoprire che la casa della modella italiana è davvero incantevole. Una celebrità è tale quando anche con il passare degli anni non si fa che continuarne a parlare. I motivi per farlo sarebbero davvero tanti su, ma in questo caso i riflettori si accendono sulla casa super comportevole dell'ex modella, che tra uno scatto in cucina e un altro durante l'allenamento in casa, rivela di abitare in una vera dimora di Insieme a Billy Costa Curta e ai figli, ex modella e oggi anche attrice e conduttrice, non poteva che organizzare la vita domestica nel miglior modo, prestando attenzione a tutti i componenti della famiglia e alle rispettive passioni da coltivare anche tra le mura domestiche. Dal parquet chiaro abbinato a mobili dello stesso colore del soggiorno al divano comodissimo ben piazzato vicino al televisore per le serate in famiglia Ma non solo! La cucina di casa Colombari Costa Curta continua a giocare con colori a contrasto e spazi Alternanza di tinte chiare e scure su pavimento bianco, la cucina invita a cucinare prelibatezze nella massima comodità E come non parlare anche dell'area dedicata alla più grande passione della Colombari, ovvero la zona allestita a palestra per i suoi allenamenti Attrezzi e spazio, ancora una volta a portata di mano Leggi anche Ovviamente intile aggiungere che una tale bellezza non poteva che essere circondata anche da un vasto terrazzo e ambienti esterni adatti a godersi pomeriggi in pieno relax Super finestra dalla quale fare entrare luce in casa e via libera alla vita casalinga fatta anche di piccoli grandi piaceri Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!